Pneumatici e sausti, vecchie carcasse di veicole, grondai e parti meccaniche arroginite. C'è un po' di tutto sulle spiagge dei villaggi, della zona nord e della zona sud. A segnalarlo sono propri residenti e vacanzieri che, nonostante i proclami dell'amministrazione comunale che il 9 giugno ha fatto partire la pulizia dei nostri litorali, si ritrovano a provvedere spesso e volentieri e con mezzi di fortuna a ritagliarsi un metro quadrato di spaggia dove poter piantare ombrellone sdrai ed evitare di prendere il tetano. C'è chi si arma di buona volontà e rastrello da giardinieri in mano fa quello che dovrebbero fare gli uomini di Messina Ambiente. Così, come ogni anno, ormai ci si ritrova quindi a fare conti con una netta divisione tra spiagge di serie A e spiagge di serie B. Quindi, se ti trovi a passeggiare lungo il litorale, dove la sera pullula la movida dell'estate messinese, tra un lido e l'altro la spiaggia è sgombra e libera da rifiuti, quasi un paesaggio caraibico. Poi invece ti capita di spostarti nei villaggi della zona nord e della zona sud e a che spiagge sembra di essere arrivati presso delle discariche a cielo aperto. I dipendenti di Messina Ambiente, incaricati di compiere la pulizia del litorale, si ritrovano pale e rastrello in mano a fare conti con cataste e cataste di immondizia, in parte trasportata durante il lungo inverno dal mare, in parte, purtroppo, lasciata lì da cittadini incivili che non hanno rispetto per quella che dovrebbero considerare casa loro. Le segnalazioni arrivate in redazione le abbiamo girate al commissario straordinario di Messina Ambiente Alessio Ciacci, chiedendogli di fare qualcosa. Adesso non ci resta che attendere.